Ma grazie al vostro dono la Madonna mi accoglie già da qui, all'ingresso. Questo è importante perché mi ricorda la premura di Maria che corre incontrare Elisabetta e la premura, la sollecitudine della Chiesa che non rimane nel centro ad aspettare ma va incontro a tutti nelle periferie, va incontro anche ai non cristiani, anche ai non credenti e porta a tutti Gesù che l'amore di Dio fa toccarli, che dà senso alla nostra vita e la salva nel male. E la Madonna va incontro non per fare proselitismo, ma per accompagnarci nel cammino della vita. E la Madonna va incontro non per fare proselitismo, ma per fare proselitismo, ma per fare proselitismo, ma per fare proselitismo, ma per fare proselitismo.